E ciao a tutti ragazzi qui Xwill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qui ritornati con un video incredibile Sì in questo periodo mancano dei video ma sempre solita routine Ma sto lavorando a molti progetti per il canale tech Quindi se volete seguitemi sul canale tech, vi lascio il link qui sopra Ma oggi siamo qui con un video abbastanza particolare e diverso dal solito Dove praticamente giocheremo ad Among Us VR con il Quest 2 Dubito che qualcuno di voi non sappia cosa sia un Quest 2 È un visore per la realtà virtuale E qualche giorno fa è uscita la versione VR del celebre Among Us Gioco che sicuramente tutti avrete giocato A me Among Us ha divertito abbastanza Quindi non appena ho visto che stavano per realizzare una versione VR L'ho subito comprata Non so cosa riuscirà fuori di questo video Incontrerò solamente gente inglese E il mio inglese fa abbastanza cagare Quindi sarà anche un video dove mi ridicolizzerò abbastanza Tanto per cambiare diciamo E niente comunque io come sempre vi invito a lasciare un bel like Per supportare al meglio il canale Commentate, condividete ed iscrivetevi Per non perdervi i futuri contenuti Detto ciò mettiamo il visore E speriamo bene perché probabilmente Cioè se me ne andrò e non mi vedrete più Ma dovrei avere abbastanza spazio per muovermi Let's go! Cominciamo bene va In realtà vi posso dire che la mia paura più grande È quella che non si registra in nulla tipo E qui siamo nel menu Guardate che bello che è C'ho le mani di coso di sas Posso fare cose così tipo Vedi? Che bello Allora andiamo a giocare online Va giochiamo online Ovviamente devo fare partita veloce Perché figurati adostarla io Tra l'altro ho cercato tipo dei gruppi italiani Che giocassero Adamo un casmo Ma non... Comunque questa qui è la hall principale Quella dove c'è il pulsantore gigante È bellissimo Io ve lo dico non capirò un cazzo Per il 90% della partita Ma non va bene così Batti 5 We don't understand that Eh... This is a video for YouTube Oh ok Bonjour Bonjour Italia Italia Spaghetti Spaghetti Allora sono un attimino disperso Non so dove sto guardando Sono un astronauta C'è un impostore C'è un casino Da paura Io spero che voi possiate C'è dovrebbe essere un modo Per spostare sta roba Ecco vedi Questo qui è il menu Tipo io lo posso spostare Là c'ho le task da fare Qua c'è la minimappa E che succede? Succede che adesso Non c'è più nessuno E di conseguenza E... Conseguenza Che devo fare? Sono disperso Allora questa qui è la La mappa L'unica mappa disponibile Tra l'altro Mi sa che abbiamo perso De brutto Ah no ok Hanno sistemato tutto Ho già fatto qualche partitella Così per gli affari miei Perché ero troppo curioso Di provarlo Ma non potevo registrare Quindi diciamo che sì Che devo fare qua? Ah devo toccare Vedi? E poi va la quest Eh mannaggia la miseria Che succede? Riunione d'emergenza I know who it is Who? Me Pink Why Pink? She told us she was impast Io salto il voto Perché sinceramente non Non lo so Hanno notato il rosa Non ho ben capito perché E non era un impostore Greedy 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 Che cazzo le Ma va bene così E' pompa di qua E' pompa di là E io mi faccio le tasche Comunque questa è l'unica mappa Giocabile al momento Hello blue Comunque vi dico che E' una roba abbastanza Anziolitica Quanto poi tipo Rimanete in pochissimi Non sai mai Che succede Non sai mai Se è quello davanti a te L'impostore o no E poi ci sono delle tasche Un po' Particolari Tipo questa qui Che non c'è nel gioco originale Ecco questa è la task Che odio di più Devi stare qua a guardare sto coso Fisso E se praticamente Distogli lo sguardo un attimo Pom Si resetta Cioè non si resetta Ma si stacca E vabbè Ah vabbè qua devo fare la roba Che devo fare? Cerchio Più più Cerchio cerchio Via A poi c'è la mappa Che è una figata Guarda la mappa Cioè mi dà proprio Con i pupazzetti Ci sono i pupazzetti Che si spostano in tempo reale Da una stanza all'altra E' veramente una figata La mappa Cioè Comunque vi dico che La prima volta che ho giocato a sto gioco Mi è capitata una cosa bruttissima Ero tipo qui Ok Per i fatti miei Comunque dicevo Mi è capitata una cosa bruttissima Ero qui nella stanza Arrivo e mi vedo uscire uno da lì Dalla ventola Tra l'altro non mi è mai capitato Di fare l'impostore Cioè signori Sarebbe figo fare l'impostore Ai blu Pompate qua Ah È morto No My friends is dead Lil I was with you I was with you Buona Ai Come un minco Non lo so Scusatemi My english is very bad Fai 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 Who do you want to vote I'll vote Whoever you want to vote I'll vote I don't know Blue For me Is safe But I I found Paracche volte Non Blue Yeah No 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 blue For me I'm not sure if to skip 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 For the moment Go to the task Win for the Complete I need to go download data Ok ok Go 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 Poi ragazzi c'è gente tra di voi Che Oh beh devo guidare l'astronave Che è E c'è il muro del magistro Come la guido l'astronave qua Allora via Mi sento Quello di Wally Com'è che si chiama Il capitano di Wally Ve lo ricordate quello che Vabbè dai Però proprio sono Scadente Ok perfetto La navetta l'abbiamo portata Madonna la sedia La 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 nave l'abbiamo portata a casa Signori Comunque dicevo Se c'è qualcuno tra di voi Che ha Among Us VR Cioè Per quest'uo Per qualsiasi cosa Non lo so Vi faccio sapere Cioè magari scriva qua sotto Nei commenti Che Ok Non lo so C'era un red Un po' sasso Forse Non lo so Comunque si Se c'è qualcuno Tra di voi Che può giocare Ad Among Us Mica male Nel senso Cioè Ehi Hey What Oh wait It's red 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 Because I found Alla To cadavere I spy I saw you walking out of Storage Not storage Out of communication I think Red In the communication E poi Andato verso Cadavere Stare Red 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 Comunque startano in cinque questi vabbè ho più possibilità magari di essere l'impostore Non lo so Hey what's this thing called a master You do it I said nothing I said nothing Oh Wait 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 Hello Do you want to do that Tasks Do you want to do that Oh I'm going to Med bay Task on the road Around the map Aff Signori Non me sente nessuno È la prima volta che sono l'impostore Come si fa Aiuto Non lo so Ci ho giocato poche volte Però è la prima volta che faccio l'impostore Quindi E mo è un po' particolare la situa Perché Un conto è fare l'impostore in quello desktop Classico a moncaso Un conto è qua Io non so che devo fare eh Ho paura che qualcuno mi veda Ho paura Che devo fare Electrical Le luci spente No Gosh Non lo so regà Non lo so Non lo so Porca vacca Non lo so C'era l'arancione Dove è l'arancione Dove è finito l'arancione Potevo ammazzare l'arancione Per essere andato Il fatto è che mo devo pure stare attento a parlare Perché se mi Vabbè oddio Se parlo così alla cab I fix the lights Oh Go Hello I Non so manco come se fecca una tasca qui Capisci Una tasca si vabbè Una tasca Allora Devo tirare giù la luce Assolutamente È una cosa buona da fare Faccio finta di far qua Non lo so Il fatto è che non ho mai prestato attenzione Se gli altri vedono Che tu stai facendo una tasca o meno Sai Lo faccio due Così almeno Non lo so Come si ammazza Non mi è comparso il tasto per ammazzare Io lo volevo fare Ma non È un po' particolare la situa qua Che devo fare Vabbè faccio finta di farlo Triancolo Cerchio Vabbè non mi devo far sgamare Quattro secondi Regà però Oh Più 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 No Oh I win Oh my god Unespected Very unexpected Goodbye Che Tutti con la mano così Quello così Tutto così Ah Il giallo abbandona Oh siamo in nove ragazzi I'm starting the game now I'm starting the game now Oh M'è cambiato colore in avanti Oh Eh no Ovviamente Ma poi perché ho un cuore in testa Scusatemi Questo è da capire Boh L'impostore Regà Per la buona volta che ero l'impostore Volevo fare qualcosa di particolare Potevo giocarmela meglio Ma eravamo in due gatti Ovviamente Quindi Sessione diciamo Mezza vuota Ho provato a fare una kill Ma amen Avrei voluto Hello green Hello green Hi green You are very green Green man Sabotage Sabotage Regà lui è un genio Cioè il green Ma ha letteralmente sbloccato il microfono Per dirmi sabotage Come se io non me ne fossi accorto Allora Muge vado in infermieria Va Dove l'altro Vieni qua maledetto E questa cosa qua Io non capisco che razza di task è A che scopo In infermieria c'è una task Dove devi Picchiare i tizi Hi orange No È la prima volta che muoio ragazzi Tutto per me è la prima volta qui oggi Mi puzzava troppo Mi puzzava troppo Mi puzzava troppo Mi puzzava ragazzi Comunque gli altri Mi sento Ma vedi un po' Ma come dico Mi so che sei tu Il rosso L'impostore Che dicono È l'arancio È bello Come si accusano tutti Ma nessuno sta accusando il vero Red sassi in amonca Ma che cazzo Se rega lo stanno votando solo perché è di colore rosso Ma che è Il verde si è tolto dai coglio Ma ragazzi hanno votato il rosso così a casistimo Oh no man Oh no man Cioè sorry but Red is in posto Perché è di sassi in red Ma what the fuck Red is sassi in amoncazza What the fuck Sorry Do you guys know the water water you know the turkish what I Wild Ma Fulfi 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 Fuf Fulfi Ok, finisci Ok, io lo vengo Ok, buona Tra l'altro una cosa figa di qua, quando sei nel reattore Che le vibrazioni che hai qua Perché ci sono gli speaker sul quest Ti mandano il vento, perché Non botto di aria questo È bellissimo ragazzi Ciao Viola, è veramente bello Ti dà una sensazione, guarda Come si fa regà? No, no, capito che ragazzi L'arancionamento hanno fatto per arrivare a giro Hanno buttato giù l'arancione E non era l'arancione Ovviamente Dai Ma ragazzo Non so dove sono, avrò colpito qualcosa E non so che cosa, ma mi son fatto male Ok, questa è l'ultima Ecco là, sapevo io Mannaggia la miseria Che brutto Pink Hello Pink Hello You are sas? He's on the pink He's on the pink He's on the pink Ok Ok Comunque è bruttissimo andare in giro con le luci spente Eh, ma vi giuro Una cosa Forse non l'avevo mai sperimentato Ma Hello Comunque il pink ha problemi Io ve lo dico Eh, cioè sta per morire Qualcosa del genere Non so Con l'odio Ci devi andare con una precisione Guarda che manca un'operazione chirurgica Perché se lo fai troppo velocemente Pichi e tocca Da qualche parte Succede qualcosa di strano Mannaggia la miseria Questa è una roba cattiva Molto cattiva Il fatto che io non veda nulla nei corridoi Mi mette ansia Vi giuro un'ansia Incredibile Hi Red Red Hey Red Hi What are you doing here? It's pink It's pink I saw pink It's pink It's pink Yeah, it's pink You follow me I found on the corridor you're Okay, I'm the imposter and purple is too Yeah, pink guy found in the corridor What? I'm the imposter and he is too Don't talk Yes, pink is You are pink Don't talk until your balls have dropped Oh shit I don't know the battery Pink You Red 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 is here Così Yeah, red is still very sus Bye I'm going to be a You are a trash can What are you talking about? Tinky winky Trash can What are you talking about? Pinky pink Scusate Ma solo io ho visto il pink volare via Vio Io Io non so manco l'italiano e poi so per l'inglese Ho visto volare via il pink Scusatemi non l'hanno eliminato Non l'abbiamo eliminato il pink Cioè scusami eh Per me Una Un po' pazzo che vola via nello spazio È morto Nel senso Credo eh I'm no serial killer Comunque regà non c'è nessuno Ma nessuno proprio No Che cazzo pò Che cazzo pò Snow, 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 snow Grum Ah Ma non lo so ragazzi eh Cioè avevo quello dentro di me praticamente Peccato regà che non si vede Quando si spostano nei corridoi Perché sarebbe comodo Vederlo proprio che si spostano nei corridoi Però poi effettivamente sarebbe troppo facile Cioè se qualcuno usa Cioè per il momento c'è nessuno Oh god Hey guys I'm leaving Blue and pink Ah Vabbè Signori Io direi che Incredibile Sono in camera Beh direi che Il nostro corso l'abbiamo fatto C'è nel senso Io mi sono divertito È bellissimo sto gioco Credo che i miei pochi capelli Invece non si siano divertiti Più di tanto Comunque io spero che questo video Un po' diverso dal solito Vi sia piaciuto Non so cosa ne è uscito fuori Ma va bene così Ho fatto un po' di partitine Io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Mi raccomando Commentate Contividete Iscrivetevi per non perdervi Tutti i futuri contenuti Se avete voglia Seguitemi su Instagram E noi ci vediamo Con un prossimo video Bella ragà Ciao 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 Grazie a tutti